Analisi fondamentale, la chiave segreta per investire con successo. Ciao, sono Marco di Investment Academy. Vorrei parlarti dell'analisi fondamentale, uno strumento indispensabile per valutare la salute di un'azienda, le sue prospettive di crescita e la correttezza del prezzo delle sue azioni. Tutto questo attraverso la lettura degli indicatori di bilancio. Esistono molti parametri di bilancio da considerare, ma vorrei concentrarmi su alcuni fondamentali. Partiamo con il PE, il rapporto tra il prezzo di mercato e gli utili dell'azienda, l'EPS, l'utile per azione, il market cap, la capitalizzazione di mercato che ci indica la dimensione dell'azienda, il debito per valutare se sostenibile, e infine il PEC, il Price Earning to Grow, ossia il rapporto tra il prezzo, gli utili e la crescita prevista di questo titolo. Ma andiamo un po' più nello specifico, andiamo a capire come possiamo utilizzare questi parametri nella nostra analisi e poi capire se il titolo su cui abbiamo messo gli occhi è un titolo buono per noi o meno. Facciamo un esempio, il PE. Se un PE è elevato, potrebbe indicare che il titolo è sovrappotato, quindi potrebbe raggiungere un prezzo, avere un prezzo attuale che per noi non è positivo. La capitalizzazione di mercato, ossia il market cap, ci aiuta a comprendere il rischio associato a un titolo. Una capitalizzazione maggiore implica un rischio minore di fallimento, mentre una capitalizzazione minore può indicare un rischio più alto. Il debito deve essere proporzionato alla grandezza dell'azienda, al settore e allo sviluppo in corso. Un debito elevato richiede maggiore attenzione. Infine il PEG, che combina tre parametri, il prezzo, gli utili e la crescita. Come può intuire un parametro molto completo, e se quel parametro è in linea con il mercato potrebbe essere un dato positivo per noi, quindi il titolo su cui abbiamo messo gli occhi potrebbe essere un titolo interessante. Capire bene questi parametri ci permette di ridurre il rischio su ogni singolo investimento, di individuare eventuali discrepranze tra il prezzo del titolo e il suo valore reale e di codere le maggiori opportunità. In conclusione, l'analisi fondamentale può diventare la chiave segreta per investire con successo.